Da una villa all'altra per nove giorni, tra musica, danza, convegni, degustazioni e spettacoli. È il Festival delle Ville Venete che da sei anni punta i riflettori sulle bellette architettoniche e sui tesori che la Repubblica Serenissima ha lasciato su questo territorio. Il nastro verrà tagliato il 13 settembre a Villa Contarini Gerardi di Piazzola sul Brenta, Padova, tappa finale Villa Badoer a Fratta Polesi, Nero Vigo, il 21. Nel mezzo Villa Venier Contarini di Mira, Venezia e un'incorsione anche nel Friuli a Villa Manin. Dimora che da tempo è solita ospitare spettacoli e concerti anche pop rock. Nove giorni in compagnia anche di Vittorio Sgarbi, Ugo Pagliai, la società filarmonica di Venezia Balletto. Se è vero che il turista di qualità, quello che cerca la Villa Veneta, che cerca il centro storico, che cerca la città, è quello che cresce e che spende, beh un progetto come questo, che apre le mille, che aumenta l'offerta, che fa parlare di sé, è una sesta edizione ma è una edizione che ci dà merito e frutto del lavoro fatto nel passato. Per tutto il mese, inoltre, 51 fortunati privati apriranno i grandi cancelli e gli imponenti portoni delle loro ville, barchesse e saloni affrescati per visite guidate ed eventi. Ricordiamo che gran parte di questo patrimonio è in mano ai privati e che loro sono, che lo sostengono anche dal punto di vista economico e che gran parte di loro stanno impegnando tanti e tanti sforzi per donare a tutti noi questa nuova opportunità economica. Credo che la fiscalità di vantaggio per chi offre il proprio patrimonio a un interesse economico di una regione come la nostra sia argomento che lo Stato deve considerare. Grazie a tutti i nostri spettatori